nuovo episodio di dritto e rovescio eccoci di nuovo qui sono new york qui sono le le sei del mattino mi sono svegliato presto ah sì ma che tempo fa lì fa freddo e fa molto freddo fa molto freddo ma io vado in giro a torso nudo bravo la serie di cui parliamo oggi è di undoing c'è questa psicoterapeuta che si chiama grace fraser che interpretata da una gnocchissima nicole kidman che ricordiamo a 53 anni 50 crisi ormonale si sono a favore di io sono contro la chirurgia estetica sempre però nicole kidman è una delle poche che riuscita a farsi quei ritocchi fatti bene e quindi dimostra se paralizzata la faccia la kidman cioè muscolo questa grace free abbiamo proprio gusti differenti per fortuna almeno non litigheremo mai grace fraser vive a manattan con il marito oncologo jonathan che è il grant e il figlio henry a un certo punto che succede succede che il benessere eh l'amore eh la l'armonia di questa famiglia viene sconquassata viene sconquassata stravolta da un omicidio brutale nel quale viene del quale viene incriminato jonathan il marito che scompare e lascia grace da sola a fare i conti con una serie di terribili segreti che piano piano emergono e vengono svelati dal passato del marito allora a questo punto stefano io non so se è il caso di dire chi sia la donna uccisa o meno viene rivelato quasi subito viene rivelato nella prima puntata e quindi non lo so tu che dici lo diciamo non lo diciamo io io lo direi che muoiono le tette di matilda de angelis ok allora l'hai detto tu io non l'ho detto però visto che l'hai detto adesso lo dico anch'io la donna uccisa è questa è matilda de angelis la nostra matilda de angelis italiana magari che interpreta elena alves che sarebbe questa donna che poi si dimostra essere più diciamo da nascondere dei segreti che emergono piano piano andando avanti con le puntate mi è piaciuta di questa serie la sua rapidità e non ci sono tempo io non ho trovato tempi morti il thriller è molto ben architettato viene raccontato con gli occhi di nicole kidman quindi in sostanza quasi prima persona cioè su di lei che si mantengono si mantiene fissa l'attenzione e nicole kidman che tra l'altro è stata straordinaria a me è piaciuta molto anche nella sua recitazione e mi ha convinto un po di meno di grant ma sa che questa cosa ci 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 trova d'accordo e poi tu racconterai cosa ne pensi è un thriller che che ti tiene col fiato sospeso fino alla fine fino alla fine anche se poi nella seconda parte un po perde secondo me si perde un pochettino nelle ultime tre puntate però le prime tre a me oggettivamente mi hanno veramente tenuto incollata alla televisione quindi un thriller veramente molto ben fatto the undoing è una serie di david e killey che è il signor michelle pfeiffer sempre si è votata e che aveva fatto anche big little lies sempre con nicole kidman tu dici la serie vista dagli occhi nicole kidman ma io non so se ti ricordi in rocky eh quando eh durante l'incontro con Apollo eh che rocky ha gli occhi gonfi dai pugni che ha preso in faccia e chiede micchi aprimi gli occhi aprimi gli occhi beh più o meno è quello che hanno fatto con gli occhi di nicole kidman che ha due fessurine ehm l'ho trovata totalmente inespressiva eh non parliamo delle faccette di Hugh Grant che sono irritanti avevano già stufato eh ai tempi di About a Boy eh adesso sono veramente eh di troppo pure con la faccia tutta cascata ehm ho trovato pure un po' stucchevole di maniera la regia con queste sfocature eh questo c'è c'è un lavoro appunto sull'immagine che non l'ho trovato coerente l'ho trovato un po' per dare un'aura di di da intellettuali eh far vedere ah sì ci ho riflettuto sulla sulla regia invece mi è sembrato tutto un po' casuale e quindi a me non è piaciuta per niente lo trovo un thriller anche abbastanza banalotto diamo un voto quindi alla serie io gli do un sette quattro sette per me quattro per sette non scendere non scendere non scendere sette e quattro non ero proprio matematica quindi quant'è la media undici dieci cinque e mezzo diciamo cinque e mezzo immotivato proprio ciao